Prova, aspettiamo che arrivino anche gli ultimi... Meno dieci, dieci minuti? Allora io vado. Buongiorno a tutti, sono Riccardo Polesella, sono responsabile marketing e comunicazione di X-DataNet. Noi siamo una società, una software house di Mirandola, che è balzata agli onori delle cronache ultimamente per fatti tutt'altro che legati al software e al business. Siamo qui per anche un atto simbolico di ricominciare a lavorare in un'ottica più normale rispetto a quella che abbiamo fatto negli ultimi 15 giorni. e siamo qui soprattutto per presentare la nuova release di un nostro prodotto che si chiama Addition. Di fatto è un prodotto di gestione documentale, ma fa molto, molto di più e lo vedremo dopo con l'aiuto anche di Matteo, che ne è stato il curatore e il creatore. Chi siamo? X-DataNet è una società che è attiva dal 1995, sviluppa idea e progetta software in casa. Non vendiamo altri prodotti, ce li costruiamo tutti quanti nei nostri uffici e infatti è il nostro modo di presentarci, che siamo costruttori di software. Nel senso che siamo orgogliosi dei nostri progetti, dei nostri piccoli errori che ci fanno crescere e del nostro lavoro, della nostra esperienza e tutto. Progettiamo soluzioni che riteniamo innovative per rendere più efficiente ed efficace alla gestione dei processi aziendali, ma soprattutto puntando su due cose in particolare. La semplicità d'uso per gli utenti e per i nostri clienti e la collaborazione attiva con i nostri clienti. Noi con tante aziende collaboriamo da oltre dieci anni nelle buone cose, anche nei piccoli problemi quotidiani e abbiamo clienti di lunga durata. Quindi questo dimostra che il lavoro che stiamo facendo sta portando dei risultati. Soprattutto siamo IBM Business Partner, siamo qui a parlare da sponsor ma siamo qui anche a parlare da appassionati di Lotus Domino, appassionati di IBM appassionati del lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni di collaborazione con loro. Siamo qui oggi per presentare una soluzione che non è nuova è la nuova release che è stata sviluppata del nostro prodotto che si chiama Addition. Addition è stato realizzato con IBM e Lotus Domino ma portando avanti, come dicevo prima, delle idee uniche. Abbiamo cercato di capire cosa i nostri clienti avessero bisogno, ci siamo basati sulle esigenze di grandi aziende, grosse, con molte sedi decentrate, molte filiali ma andando avanti con lo sviluppo anche molti clienti ci hanno chiesto, più piccolini, ci hanno chiesto cosa potessimo fare per loro. Abbiamo organizzato delle demo, abbiamo fatto degli incontri e stiamo sviluppando progetti anche per loro. Per cui è vero che questo progetto è iniziato per esigenze di grandi aziende ma si adatta benissimo anche alle esigenze di piccole aziende. L'importante, come dicevo prima, è la flessibilità e la collaborazione. Collaborazione attiva col cliente, capire le esigenze, questo non è un prodotto che noi prendiamo e vendiamo, è un prodotto fatto così. cercando soprattutto, e lo ripeto, di privilegiare la semplicità d'uso perché noi siamo, tranne il sottoscritto che lavora nel marketing, la maggior parte sono tutti tecnici e software designer e insomma gente che ci lavora da tanti anni sull'autosdomino però l'importante è la semplicità, per questo è che ci chiedono i nostri clienti. Addition è la nostra soluzione che è partita con questa facilità e semplicità d'uso per la gestione documentale, ma non è solo una gestione documentale come vi spiegherà meglio Matteo, è qualcosa di più nel senso che non è che vogliamo mettere tutti i documenti in un semplice repository, metterli lì e renderli a disposizione delle persone. Vogliamo fare molto di più. Vogliamo modellare i processi aziendali definendo le informazioni e facendole girare per l'azienda con processi di analisi, di verifica e di workflow. Cosa non è, come dicevo prima, non è un semplice repository. Quello che ci chiedono i nostri clienti è che non ci interessa avere un posto dove mettere i nostri documenti che ce l'abbiamo già e facciamo fatica a trovarli, facciamo fatica a riparirli, facciamo fatica a lavorarci su, facciamo fatica a passare nei processi di approvazione e revisione e soprattutto di verifica delle versioni. Vogliamo prodotti semplici e soprattutto questo prodotto è nativo sull'Odus Domino, è stato pensato fin dall'inizio per essere nativo sull'Odus Domino, non necessita di altri prodotti per funzionare, però può integrarsi con tutti gli altri sistemi che un'azienda ha dentro di sé. Se ne parla, ci si mette d'accordo e si vede come procedere. Come ripeto prima, sembra un prodotto molto potente, in realtà noi stiamo parlando adesso con piccole aziende, anche vicino a noi, anche della zona, che ci hanno chiesto una mano da questo punto di vista. Adesso Matteo parlerà dello sviluppo della soluzione, delle sue caratteristiche e dei suoi vantaggi. Grazie. Buongiorno a tutti. Volevo introdurvi quello che è il prodotto Edition presentandovi gli attori principali. Gli attori principali soprattutto sono l'home page. L'home page possiamo immaginare la nostra biblioteca, dove possiamo avere la porta per entrare, la mappa, la piantina delle nostre stanze. Nelle stanze cosa abbiamo? Abbiamo delle librerie. Le librerie sono il cuore pulsante dell'applicazione. Nelle librerie possiamo andare a mettere i nostri documenti, organizzarli, catalogarli, decidere come spostarli o se aggiungerci dei nuovi documenti. A fianco a questi due oggetti cosa abbiamo? La community. La community cosa ci dice? Ci dice chi può entrare nelle stanze della nostra biblioteca e soprattutto ci dice anche perché questa persona ha le stanze per entrare nella nostra biblioteca. Questa è la prima videata che vediamo di Edition. In Edition noi siamo andati a studiare quella che è l'ergonomia e la fruibilità del software, cercando di realizzare un'applicazione ad un impatto moderno. Questa è la nostra home page. La nostra home page è come organizzata? Qua in alto vediamo delle tab che vanno a identificare un concetto per i più noti che può essere quello delle aree di lavoro. Le aree di lavoro possono essere di due tipologie. Abbiamo aree di lavoro che sono di tipo privato o di tipo pubblico. Quando è che ha senso parlare di un'area di lavoro? Un'area di lavoro quando si è una determinata specifica di business, quando abbiamo bisogno di affrontare una determinata tematica o semplicemente per la singola esigenza. In quel caso lì è il momento di pensare a una nuova area di lavoro. La nostra area di lavoro è composta di tanti oggetti, di tanti piccoli mattoncini, che sono questi qua. Questi sono, noi abbiamo definito, i nostri adlet. Gli adlet sono degli oggetti specializzati nella gestione dei dati. Per lo più vanno a gestire dati di natura documentale. Il nostro prodotto è un prodotto di tipo documentale, ma ne abbiamo anche aggiunti altri che sono di semplice utilità. Questo perché abbiamo visto che con un piccolo passo potevamo rendere la nostra op-page un'area di lavoro a 360 gradi. Gli adlet sono oggetti molto evoluti. Quando andiamo a costruire la nostra op-page, andiamo a prendere i nostri adlet che li forniamo in un catalogo, li possiamo unire e andare ad agire sulle proprie proprietà. Andando ad agire possiamo creare anche delle connessioni fra i nostri oggetti. Quindi gli adlet rimangono in attesa di eventi sugli altri oggetti. I dati di questi adlet si aggiornano anche in base a questi eventi. Ma non solo. Abbiamo la possibilità in ogni caso di andare a estendere il nostro adlet a full screen. Ovviamente questa è una vidiata molto ricca di dati e stendendola a tutto schermo possiamo andare a vedere una maggiore informazione, avere un maggior dettaglio sulle nostre informazioni. Se consentito dagli amministratori, inoltre, è possibile andare a creare delle on-page personale. L'utente può prendere i suoi oggetti, comporli e crearci delle proprie on-page. I nostri oggetti adlet, abbiamo detto, sono specializzati nei dati di tipo documentale. Alcuni di questi dati documentali sono le nostre librerie. Quindi qui abbiamo alcuni dati che permettono in diversi modi di andare a cercare le librerie che vogliamo aprire. Le librerie servono per organizzare i nostri documenti. Quante librerie possiamo creare? Quelle che ci servono. Non ci sono limiti di librerie che si possono creare. E inoltre le librerie vengono create dinamicamente, associandoci degli oggetti che noi possiamo riutilizzare in più librerie. Quindi andiamo a comporre la nostra libreria con gli oggetti che ci servono. Oggetti possono essere, un esempio semplice, delle viste, delle tipologie di documenti, dei set di ricerca. Parlando di librerie abbiamo parlato di documenti. Il documento cos'è? Il documento è sicuramente un insieme di dati di natura semplice o di natura complessa che per essere inseriti richiedono delle interfacce adeguate per il caricamento delle informazioni. Questo è il nostro documento. Noi cosa abbiamo fatto? Una volta che viene definito il nostro documento andiamo a estrarne quello che è il modello creando il nostro tipo di documento. Un tipo di documento che poi ne andiamo riutilizzabile in più librerie. Questo ci permette, abbiamo detto, la gestione di modelli di dati complessi e in più ci permette di gestire la modellizzazione del documento nel tempo. Modellizzazione del documento nel tempo cosa vuol dire? Io domani devo aggiungere una nuova informazione, devo aggiungere un codice in un'anagrafica. vado a cambiare il mio modello, propago la definizione di modello nelle mie librerie, da quel momento i nuovi documenti creati avranno un nuovo campo del modello. I vecchi documenti rimarranno col vecchio modello storico. Poi possiamo in modo selettivo decidere di propagare le modifiche anche sui vecchi documenti, ma questa è, diciamo, un'altra storia. Il tipo documento, abbiamo detto, è complesso. Non solo gestisce dati semplici e complessi, ma bisogna anche di interfacce adeguate. Noi cosa abbiamo fatto? Lo andiamo a costruire andando ad unire dei piccoli moduli. Noi abbiamo i moduli di documento. I moduli li andiamo ad offrire a catalogo. Nel catalogo cosa abbiamo messo? Abbiamo messo dei moduli che vanno a fare le gestioni classiche che vengono richieste per il ricaricamento di dati. Oppure noi, in base alla nostra esperienza, abbiamo messo a catalogo delle altre funzionalità che ritenevamo dare del valore aggiunto. Ogni modulo ha delle proprietà e delle opzioni che ci permettono di andare a personalizzarlo per ottenere, diciamo, il comportamento più consono alle nostre esigenze. Però non abbiamo la presunzione di aver realizzato tutti i moduli necessari. È per questo che abbiamo lasciato aperta una porta per gli sviluppatori per andare a creare dei moduli e rendere i riutilizzabili nel prodotto Addition. Mettiamo un'integrazione particolare con un database relazionale, una validazione complessa, o semplicemente voglio avere le cose fatte come voglio io, noi questo qui lo consentiamo. Però il nostro obiettivo è che lo sviluppatore si concentri su questa piccola parte. Non inventiamo ogni volta l'acqua calda, ma diciamo che Addition pensa a fare il resto. Qui abbiamo messo qualche esempio dei nostri moduli. Abbiamo fatto un modulo per la gestione degli allegati. Come lo facciamo? Avendo la possibilità di avere un'interfaccia di tipo HTML o un'interfaccia avanzata con l'utilizzo di un applet. Con questa interfaccia cosa possiamo fare? Possiamo andare a gestire la modifica in line degli allegati. Cioè ho il mio allegato, lo apri in modifica, direttamente dentro Addition, salvo le modifiche, salvo le modifiche su Addition, il mio allegato è già modificato. Nelle gestioni tradizionali bisognava salvare l'allegato sul file system, modificarlo e ritornarlo a legarlo nel prodotto. Gestiamo il drag and drop degli allegati direttamente sull'applicazione. Abbiamo, siamo integrati con sorgenti Twain, Scanner, per fare acquisizione immediata di documenti. Oppure possiamo avere altri moduli. Abbiamo un modulo per la gestione delle discussioni. Stiamo redigendo il nostro documento, nel documento abbiamo i nostri contenuti. Questi contenuti possono essere commentati. Noi abbiamo fatto due modalità di discussione. Una è che la modalità di discussione di tipo commento, quindi commento parietetico, tutti commentano al stesso livello, oppure la classica discussione con domande e risposte. Questo è inventato a più livelli, senza limiti particolari. Abbiamo fatto un altro bel modulo, che sono i campi configurabili. Io voglio andare a creare il mio modulo, voglio inserirmi dieci campi, però non sono uno sviluppatore, non voglio sapere niente. Noi, da un'interfaccia semplice, una persona può andare a rifinire il proprio campo, cioè che tipo di campo è? Un campo con una determinata label, un campo di tipo testo, numero, lista valori, se è un campo obbligatorio, con che logica di validazione, configura semplicemente da web, senza scrivere codice, e questo campo viene renderizzato dall'applicazione Addition in un modulo. Estendendo semplicemente questo concetto, abbiamo anche possibilità di fare delle griglie, quindi ripetere più volte il nostro inserimento a dati. Stiamo parlando di gestione documentale, che non è se c'è una gestione dei workflow. I workflow, quando parliamo di workflow ci piace di parlare di processo di business, perché noi siamo in realtà aziendale, quindi il business è sempre il nostro obiettivo. Ogni documento ha un suo ciclo di vita. Quando parliamo del ciclo di vita del documento, andiamo a definire chi sono i suoi attori e quali sono le azioni che possono essere effettuate sul nostro documento. Ovviamente, definire un ciclo di vita del documento ci serve per andare a effettuare azioni di controllo, andare a ottimizzare e standardizzare quelli che sono i nostri processi di andali. Il workflow come lo facciamo? Sicuramente lo facciamo con la possibilità di andare a gestire un versioning del workflow e la sua validità temporale. Noi abbiamo un documento che ad oggi deve essere approvato dall'ufficio legale. Sappiamo che dal primo del mese successivo il nostro workflow non deve essere più approvato dall'ufficio legale, ma prima deve passare per la segreteria. Noi andiamo a fare una nostra versione del workflow, andiamo a dire che entrerà in vigore dal primo del mese successivo e verrà automaticamente applicato il nuovo workflow. Questa è una rappresentazione grafica del nostro workflow. Come si organizza il workflow? Si organizza in step. Quando parliamo di step bisogna pensare a una gara di ciclismo. Il nostro documento sa che dovrà arrivare al traguardo. Quando parliamo del traguardo, prima di arrivare al traguardo ci possono essere delle tappe intermedie, il gran premio della montagna, la foratura. Ognuno di questi momenti fermi è lo step. Associato allo step cosa abbiamo? Abbiamo delle azioni. Possiamo definire n azioni sul nostro step, definire chi saranno gli attori e cosa fanno queste azioni. Possono fare dall'operazione più semplice, dallo step A mi mando allo step B, oppure azioni più complesse. Tramite script possiamo definire cosa dobbiamo fare. Anche questi sono script fatti da interfaccia. Script fatti da interfaccia, quindi non serve programmazione. Oltre agli step cosa possiamo andare ad associare? Degli eventi, quindi all'entrata e all'uscita del nostro step possiamo andare ad associare delle notifiche, tutte quelle che vogliamo. Queste condizioni semplici, se no possiamo anche qua mettere delle condizioni avanzate. se stiamo entrando in questo step il nostro importo supera i 1000 euro. Oppure abbiamo degli eventi di valorizzazione e inizializzazione campi. Quando il documento viene approvato voglio calcolare il protocollo del documento. Con questo evento possiamo farlo. documenti collegabili e versionabili. Cosa vogliamo dire? Le nostre librerie, per forza di cose, andranno a raggruppare documenti o tipologie di documenti che sono omogenei. Ma è limitativo andare a cercare. Spesso abbiamo bisogno da un documento di collegarci a un altro documento. Abbiamo adibito un'area del nostro documento per contenere queste connessioni. Cosa sto dicendo? Noi entriamo nella nostra biblioteca. Abbiamo la nostra libreria dove abbiamo i romanzi gialli. Ci piacerebbe dal romanzo giallo andare a leggere la bibliografia dell'autore. Sono documenti in due librerie diverse. Da qui possiamo inserire questo collegamento. Lo facciamo con due caratteristiche importanti. La prima è il concetto di bidirezionalità. Cioè quando metto il collegamento dal libro alla bibliografia dell'autore lo faccio anche in senso inverso. In più anche versionabili. Io posso decidere di collegare la bibliografia al momento in cui è stato creato il nostro documento oppure puntare sempre all'ultima versione della bibliografia. Accesso ai documenti. La nostra libreria va detto che organizza i documenti. Dobbiamo ricercarli i documenti. Trovarli. Trovarli è la cosa più importante. E quindi l'abbiamo fatto in diversi modi, in diverse soluzioni. Abbiamo fatto il primo modalità è quella che conosciamo bene. Veniamo dal mondo domino e quindi abbiamo riproposto le nostre viste. Il navigatore e la nostra vista. Come l'abbiamo fatto? Non l'abbiamo fatta. Non bisogna essere programmatori. Noi abbiamo detto che quello non lo vogliamo. Da interfaccia web configuriamo le nostre viste, definiamo le nostre colonne e soprattutto le possiamo utilizzare anche in più librerie. Tutto da interfaccia di amministrazione. Come l'abbiamo fatto? Visto che dovevamo rifare le nostre viste, l'abbiamo fatto dando anche del valore aggiunto. Abbiamo mantenuto gli elementi di successo delle viste, cioè le categorie, le viste che sono ordinabili o sono ordinate in base a determinati valori e la possibilità di accedere al documento. In più abbiamo dato, abbiamo aggiunto degli add-on del tipo la possibilità di visualizzare gli allegati. C'è la possibilità di vederli a meno in tre modalità diverse. C'è la possibilità di andare a vedere dei dettagli aggiuntivi sul documento. I dettagli aggiuntivi sul documento cosa vuol dire? Io vedo nella vista quattro informazioni, ne voglio vedere altre dieci, apro una piccola sezione del documento e vedo gli altri dieci documenti, senza dover per forza aprirlo tutto. La seconda modalità che abbiamo attivato è quella delle viste standard. Ci sono delle funzionalità che noi abbiamo ritenuto di utilità comune che ha senso avere in tutte le nostre librerie. Quindi abbiamo creato degli shortcut per accedere a queste funzionalità. Viste standard, noi abbiamo una gestione qua che un utente può marcare i suoi documenti come preferiti, può andare a fare delle sottoscrizioni alle modifiche in modalità immediata o schedulata. Poi abbiamo le versioni più classiche come gli ultimi documenti modificati, il cestino. Questi sono tasti che ci servono per accedere rapidamente a queste visualizzazioni. Poi abbiamo un motore di cartelle private e pubbliche. Quando parliamo di cartelle, potete pensare al concetto di faldone, al concetto di pratica. La cosa veramente bella delle cartelle è che possono essere, anche queste, utilizzate in modo trasversale su più librerie. Cioè la mia pratica non è contenuti i documenti tutti da stessa libreria, ma ne prendo uno da una libreria e uno da un'altra. Quindi queste sono le cartelle. Oltre a questo abbiamo delle altre modalità. La ricerca. Abbiamo mantenuto il motore di ricerca full text, funziona bene e lo conosciamo. Abbiamo inoltre fatto però una ricerca di tipo avanzato, una ricerca molto più puntuale. Come l'abbiamo fatta? Abbiamo pensato che venissero definite a livello centrale dei set di ricerca. Io so che per andare a ricercare i dati del fornitore avrò sempre una ragione sociale che contiene una determinata parola e avrò la partita IVA che deve essere uguale a un determinato valore. Io vado a definire i miei N set di ricerca. L'amministratore decide come distribuirli in che librerie, in base ai tipologi di documenti che contiene la nostra libreria. L'utente finale cosa deve fare? Deve semplicemente dire io vado a concatenare logicamente queste condizioni, cioè voglio cercare il mio fornitore, ho la mia fattura, avendo tutti i campi già pronti. Condizioni default, compili i dati, fa la sua ricerca e l'utente può salvarla. Da un'area qua l'utente vedrà le ultime ricerche effettuate e può decidere di eseguirle immediatamente oppure andare semplicemente a modificare i parametri e riutilizzarle. La community. La community abbiamo detto che era quella parte dell'applicazione che aveva le chiavi dell'applicazione. La community è la parte, diciamo, di social business di addition. Gestiamo le persone e soprattutto siamo voluti andare a colmare una lacuna che era presente in Domino. Da sempre c'è bisogno di avere delle strutture organizzate che vanno a definire come sono correlazionate le persone. Qui è possibile andare a definire delle strutture organizzative in modo indefinito, di tipo funzionale, di tipo gerarchico o semplicemente di supporto al business. Qui definiamo le nostre strutture e poi dopo le useremo nei processi di sicurezza di addition. Visto che stavamo gestendo le persone ho detto, diamo un po' di valore aggiunto comunque a quello che è la gestione delle persone. Stiamo gestendo i dati delle persone quindi diamo la possibilità di fare un'interfaccia grafica dove possiamo andare a cogliere un po' di informazioni o farlo inserire dall'utente. Dobbiamo inserire, fare delle foto, dobbiamo inserire dei dati. Da qui è possibile farlo. Le nostre informazioni ce le abbiamo, le persone le andiamo a prendere dalle rubriche. Visto che stiamo facendo questo diamo la possibilità anche di sincronizzare in modalità pull and push le informazioni. Quindi un po' le alimentiamo in modo automatico, un po' le andiamo a inserire e un po' le distribuiamo. C'è la possibilità poi di andare a riutilizzare queste persone all'interno di Addition per configurare delle schede che si attivano con hotspot in punti determinati dell'applicazione. Cioè possiamo definire noi che informazioni fare vedere della persona in determinati punti. Cosa facciamo? In tutta l'applicativo Addition c'è la possibilità di gestire a più livelli la visibilità e la redazione dei contenuti con una struttura decisamente capillare. Abbiamo detto che abbiamo la gestione integrata e evoluta grazie all'Addition Community quindi possiamo andare a selezionare le nostre strutture e dove fare vedere e chi fare modificare i nostri contenuti. Siamo nel mondo domino e noi abbiamo utilizzato tutte le nostre modalità di security domino anche le più avanzate. l'amministrazione come vi dicevo per questa applicazione non serve avere il client notes noi andiamo tutto via browser l'applicazione si amministra tutto da un unico punto questo è il nostro menu. Infrastruttura IT facciamo un'applicazione di concezione moderna browser independent fruibile da tutti i browser sia per l'amministrazione che l'utilizzo questo ci tengo a evidenziarlo anche perché abbiamo cercato di dare del valore aggiunto soprattutto sulla facilità di compilazione dell'applicativo. Clustering semplice da configurare ampio numero di utenti e contenuti abbiamo progettato l'applicazione per essere distribuita a livello enterprise a livello enterprise vuol dire che già quando abbiamo progettato il nostro codice siamo pronti a supportare quello che è il clustering domino qualcosa da fare c'è perché funzioni in modo ottimale contenuti replicabili tra sistemi remoti anche qui abbiamo pensato ad aziende con distribuzione geografica possiamo decidere in modo selettivo dove andare a distribuire i nostri contenuti e inoltre permettiamo anche all'utente di determinare dove andare a consultare il dato per accedere a un dato più puntuale o diminuire quello che è il discorso del traffico di rete. Applicazione moderna parliamo di temi l'applicazione può cambiare la presentazione quindi supporta l'utilizzo di temi soprattutto per le aziende che vogliono integrare la presentazione dei contenuti con il loro layout di tipo aziendale l'applicazione è multilingua abbiamo un motore di multilingua che permette di avere un numero illimitato di lingue e soprattutto abbiamo dato dei valori aggiunti l'utente singolo può scegliere in che lingue visualizzare i contenuti possiamo scegliere a livello di amministrazione di fare fruire un determinato contenuto in una specifica lingua e poi abbiamo un concetto interessante di set di traduzione alcune librerie saranno specializzate e avranno dei contenuti con una tecnologia tecnica noi possiamo creare il nostro set di traduzione e distribuirlo in modo selettivo soltanto su alcune librerie. System integration ovviamente non possiamo pensare di dare un'applicazione che non parli con il resto del mondo anche la migliore applicazione ha bisogno di prevedere dell'interfaccia e parlare con gli altri noi lo facciamo con tecnologia web services e anche qui abbiamo voluto mettere un qualcosa di nostro dall'interfaccia di amministrazione possiamo andare a definire dinamicamente qual è il nostro set di informazioni che vogliamo scambiare possiamo definire n interfacce senza nessun tipo di limite e in più diamo la possibilità di eseguire del codice degli agenti quando veniamo chiamati o quando termina la chiamata la nostra applicazione. Io direi che per la mia parte ho finito ripasso la parola a Riccardo grazie. Chiudo velocemente anche perché abbiamo finito il tempo quello che ha spiegato Matteo è cosa fa Addition oggi ma già adesso in questo momento in cui noi stiamo parlando ci sono dei nostri ragazzi a Mirandolo che stanno già sviluppando tante funzionalità è semplice è potente è un'applicazione web based quindi si può utilizzare un qualunque browser stiamo adesso puntando su quattro concetti principali l'archiviazione ottica sostitutiva con delega di responsabilità per smaterializzare gli archivi cartacei un grosso cliente ce l'ha chiesto lo stiamo facendo lo stiamo implementando già oggi l'integrazione con sistemi di directory esterne con IBM Connections di cui vi ho sentito prima perché ovviamente dobbiamo andare verso un'ottica di social business e questo procedimento lo è già potenzialmente progettato per questo è ovviamente integrabile con prodotti di collaboration di IBM e di Microsoft noi siamo partner anche di Microsoft e soprattutto lo sviluppo di rich client e client HTML5 specifico per device mobili se voi utilizzate già adesso un iPad o un tablet per accedere a Addition funziona tutto noi stiamo sviluppando un'interfaccia molto più evoluta molto più semplice molto più innovativa quel punto di vista anche per prodotti sia Mac e Windows cioè siamo disponibili per qualunque esigenza dicevamo prima una soluzione ideale per le grandi aziende siamo adatti anche per le piccole possiamo andare da loro potete venire al nostro desk oppure vi invitiamo nel nostro Pullman ufficio che è molto bello da vedere un po' caldino dentro in questi periodi però insomma se volete provare un'esperienza inedita potete venire qui dentro noi vi ospitiamo senza problemi qui trovate la nostra mail il nostro sito tutto quanto una cosa finale velocissima a dimostrazione che ci teniamo alla community noi siamo venuti qua anche per cercare collaboratori per cercare gente con cui lavoriamo in questa sala ce ne sono alcuni uno qui in prima fila con cui già parliamo e già lavoriamo siamo disponibili a parlare con chiunque e una secondo step stiamo alla ricerca di nuove professionalità di nuovi ragazzi che possono venire a lavorare da noi da assumere abbiamo la sede inagibile ma già stiamo guardando al futuro perché non ci fermiamo qui questo lo volevo dire a conferma di tutte le cose che ci siamo detti grazie a tutti buona giornata e buon evento grazie a tutti